Mi trovo presso la struttura sportiva, presso il campo di calcio, la struttura sportiva del Renzino Paradiso di Talsano. Guardate una bellissima struttura, campi di calcio davvero belli, chissà quanti giovani, quanti ragazzi, magari potrebbero essere delle promesse del calcio, chissà, magari ragazzi che potrebbero emergere, potrebbero portare alto il nome di Taranto, ma un'amministrazione comunale, l'amministrazione Melucci, che tanto se la profuma a voler candidare Taranto come città europea dello sport, poi si perde in un bicchiere d'acqua perché questa struttura si trova ancora a porte chiuse per una carenza assurda, incredibile. Manca infatti la documentazione, il certificato di agibilità della struttura, per cui mancando il certificato, la certificazione di agibilità, si è costretti a tenere la struttura a porte chiuse. Questo è anche un provvedimento, una conseguenza, peraltro giusta, alla luce dei fatti accaduti allo Iacovone, è dovuto alla stretta che ha impresso la questura di Taranto dopo il noto incendio, per cui giustamente la questura ha pretesso l'agibilità. Dice se tu, cara amministrazione comunale, vuoi che questa struttura sia a porte aperte e non a porte chiuse, mi devi fornire, mi devi produrre un documento, una attestazione di agibilità. Finora questa attestazione, questo documento di agibilità a tutt'oggi non è stata inviata, non sappiamo se c'è, se non c'è, se deve essere redatta. Sta di fatto che la certificazione non è stata inviata e per cui abbiamo l'assurdo che questa bellissima struttura, guardate che bei campi, guardate anche le tribunette, questa struttura giace miseramente a porte chiuse per un deficit, per un deficit amministrativo che ci può anche stare, ma la cosa, e non dovrebbe starci per carità, ma la cosa che davvero mi fa arrabbiare, mi fa incazzare e che poi vediamo come se la profuma il sindaco Melucci, l'assessore allo sport Gianni Azzaro, belli seduti, comodi a Palazzo di Città, nel Salone degli Specchi e se la profumano Taranto, città europea dello sport. Ma di che stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Se poi non siete capaci di fornire alla Questura un semplice certificato, una semplice documentazione di agibilità.